Musica Eccoci qui a Soveria Mannelli, abbiamo accettato con grande piacere l'invito della Proloco, gli amici che ci hanno ospitato e il comune che è così davvero accogliente, d'altronde come tutti noi calabresi. Il Club Fotografico Gioiesi oggi è qui a immortalare delle scene di vita, dei paesaggi e dei personaggi tipici del luogo. La cosa ci fa molto piacere, fotografia e anche cultura, far conoscere, ma soprattutto comunione. Essere insieme a questi nostri amici oggi ci arricchisce di sicuro e ci fa tornare a casa con qualcosa di più. Grazie, speriamo che possiamo ricambiare con le nostre foto. Grazie. 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 Grazie.